Ho più volte sottolineato la grave inefficienza del servizio di Chima Ambiente Amiu. Ci sono certamente i cittadini incivili, ma ci sono tantissime situazioni in cui i cittadini sono civilissimi e sono invece costretti da cittadini civili a vivere in condizioni pietose da terzo mondo. Giusto per fare un esempio, mi trovo qui in Piazza Bettolo, nelle vicinanze di Via Pitagora, guardate, sono le 10 del mattino e i cassonetti sono completamente traboccanti. Allora, quando guardate i sacchetti per terra, non è certo l'inciviltà del cittadino, perché il cittadino ha conferito la sera prima i rifiuti, però purtroppo i cassonetti sono assolutamente incapienti, motivo per cui il cittadino non è che i sacchetti può prenderli e riportarseli a casa. Viene, trova tutto pieno, come qui, e dice dove metto i cassonetti, dove butto i sacchetti? Se poi si aggiungono anche molte volte i ritardi nello svuotamento dei cassonetti, la situazione peggiora ancora di più. Questa è l'immagine, la prova provata della inefficienza di chi ma ambiente AMIU. Perché guardate, qui intorno la situazione diventa ancora peggiore, guardate qui altri rifiuti, altri sacchetti, ma non è il cittadino incivile, il cittadino non sa dove metterli. Che fa se li porta a casa, se li tiene in macchina? Ecco un'amministrazione, quella di Melucci, che è fallimentare. Questo è il coraggio di parlare, Melucci, di dire stiamo seminando la rinascita, parla di Taranto città green, parla di ecosistema Taranto, dovrebbe parlare della merda in cui si trova Taranto, nella merda in cui si trova Taranto. Perché questo significa che Taranto sta nella merda e non scandalizzatevi di queste parole. Guardate, alle 10 del mattino, vi rendete conto? I cassonetti sono traboccanti, traboccanti signori cari ed evidentemente non sono stati svuotati o anche nelle ipotesi in cui vengano svuotati comunque restano insufficienti, sono piccoli. Chi ha avuto l'ascellerata idea di acquistare dei cassonetti piccoli, insufficienti, incapienti? Ma si sa, è bello parlare di favole, no Melucci? Il meglio deve ancora venire. Cittadini di Taranto, questo è il meglio che è avvenuto a Taranto, questo è il meglio che è avvenuto a Taranto. Questo significa aver rivotato Melucci. Siete stati ingenui, molti di voi anche forse hanno creduto a troppe promesse di varia natura e avete abboccato. Spero che apriate gli occhi, perché se volete continuare a vivere ancora così, tenetevi Melucci. Grazie.